Mi raccomando non vi muovete dalle sedie perché tra poco arrivano i grandi, i nostri maestri perché assolutamente è proprio così, noi dobbiamo veramente tanto ai musicisti che stanno avversario su questo palco e sono contento di avere questa opportunità insieme a Francesco per poterlo far presente perché senza di loro il blues in Italia non sarebbe lo stesso o non sarebbe così bello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti